Visite gratuite per la prevenzione. Grazie alla collaborazione di Fondazione Ant del Banco Fiorentino e Villa Donatello riparte l'iniziativa Gioca d'Anticipo contro il tumore. Nei primi sei mesi di quest'anno sono previste visite per il melanoma e il cancro al seno per donne sotto i 45 anni, fascia scoperta dall'attività di screening della regione toscana. Ci sono sei giornate sempre a Villa Donatello dedicate alla prevenzione dei melanomi che ricordiamo è una tipologia di tumore molto aggressivo, molto facile da individuare in modo precoce. Per Villa Donatello la prevenzione è un pilastro importante soprattutto nella storia più recente, una volta Villa Donatello era più una struttura chirurgica, oggi ha una presenza importante nei percorsi diagnostici e di prevenzione. Questa per noi è un'opportunità importante soprattutto per sottolineare l'importanza del protagonista fondamentale di un'iniziativa come questa che è la prevenzione. Quindi l'organizzazione di un'iniziativa come questa non è solo e tanto importante nella misura in cui daremo anche quest'anno la possibilità a oltre 300 persone di effettuare attività di prevenzione ma è la possibilità di non perdere l'occasione di nuovamente sottolineare l'importanza della prevenzione. Le prenotazioni a partire dal 9 febbraio sul sito di Ant.